Eccoci qui ragazzi allora, buon pomeriggio a tutti quanti voi e benvenuti in questo mio nuovo video pomeridiano video che sto registrando sui sedili posteriori perché... perché no? A parte gli scherzi. Prima di cominciare vi ricordo come sempre che sono attivo non solo su questo canale ma anche su un secondo canale di gaming e anche sul sito Viola. Per seguirmi su tutti i miei profili e perciò supportarmi al massimo i link ve li lascio come sempre in descrizione. Oggi non volevo parlarvi di questo argomento perché speravo che ci potesse essere qualcosa di importante legato alla Roma. Non è successo nulla di che, ho cercato dappertutto ma a parte la resurrezione di Pastore già comunque confermata con i suoi ultimi minuti giocati con il Bologna e la conferma che Spinazzola starà fuori per circa dieci giorni, cose che francamente sapevamo già da tempo volevo parlarvi un po' di questo episodio perché arrivi un pochino alla mia opinione a riguardo e soprattutto legata alle altre tifoserie. Senza entrare troppo nei dettagli, praticamente il mio collega su YouTube, diciamo My Domo, conosciuto su YouTube come Eagle eccetera eccetera Giovanni, ecco uso il termine Giovanni, è stato vittima diciamo di un episodio spiacevole in cui un tifoso della Roma, di cui ovviamente non faccio il nome lo ha insultato poiché in una live che stava facendo con Asso e altri ospiti aveva detto che secondo lui Totti non gli interessava quello che succedeva riguardo Totti, la sua serie tv e preferiva tra i due De Rossi. Non lo avesse mai fatto, sono arrivati un sacco di insulti di romanisti, lo metto tra virgolette perché comunque persone che dicono certe cose sono secondo me incommentabili e anche degli insulti pesanti privati, un episodio spiacevole e ovviamente come ho fatto in privato lo dico anche adesso, sto vicino a lui perché comunque l'offeso, comunque l'augurio che gli hanno fatto è qualcosa di veramente pesante. Questo è un problema che colpisce la maggior parte dei tifosi di tutte le squadre, voglio partire da questo presupposto perché non è un video per difendere i romanisti o offendere i laziali, anche perché in questo caso comunque è un romanista ad aver fatto la cosa negativa, quindi di sicuro non lo faccio per elevare la mia tifoseria migliore e abbassare le altre a peggiore. Purtroppo una parte negativa di ogni tifoseria c'è, quindi non coninciamo con i soliti stereotipi che tutti i laziali vogliono vedere la propria squadra perdere per non far vincere lo scudetto alla Roma, che tutti i laziali sono feccia, che tutti i milanisti fanno schifo per fare un esempio eccetera eccetera. Bisogna sempre distinguere le persone più che la loro tifoseria. Purtroppo in molti non ci riescono e soprattutto, sapete quella è la cosa più grave, vedono gli insulti alla propria squadra del cuore o in questo caso semplicemente il non essere estasiati per determinate persone come un insulto a se stesso. Come io dico spesso in questi episodi, se a una persona di questo tipo gli vai a dire che la sua squadra fa schifo, ti dice le peggiori cose. Magari gli dici che sua madre è una donna di facili costumi e se la prende per molto meno, per farvi capire come molte persone vedano in maniera acida, in maniera negativa, in maniera tossica, ecco non mi veniva il termine, il gioco del calcio. Perché sicuramente il calcio può portare a momenti positivi e momenti negativi, momenti in cui vedi tutto nero e momenti in cui sei la persona più felice di questo mondo. Ma non per questo motivo si possono giudicare e insultare le persone secondo il loro tifo. Prendendo in esempio proprio Giovanni, è vero, su YouTube comunque ogni tanto c'è stato qualche video di sfottone con fonti della Roma, ma è una cosa normalissima. Sapete perché ho pensato questa cosa? Perché ho letto molti romalisti che mi hanno scritto anche in privato, che mi hanno detto, ah hai visto quel laziale che ha detto che ha gufato la Roma contro l'Ajax, che schifo, ma non si vergogna. No, ragazzi no, perché, allora, mettiamo in chiaro una cosa. Il gufaggio per me non è negativo, o per meglio dire, non ci vedo questa cosa così grave. Mi pare ovvio che un laziale non sia contento del fatto che la Roma si trova ai quarti di finale e comunque ha vinto l'andata e quindi ha discrete possibilità di andare in semifinale, ma mi sembra normalissimo. Non dobbiamo confondere, cioè non dobbiamo passare dal insultarci troppo alla troppa sportività, nel senso che un conto è dire che io gufo una determinata squadra e un conto è non ammettere il suo vero valore tecnico. Cioè io non posso dire, ad esempio, che la Lazio l'anno scorso faceva schifo, vinceva solo a culo. Sì, ogni tanto ho mostrato un po' di rosicamento, ma non si può dire che una squadra che a marzo era seconda ad un punto dalla Juve, e poi sappiamo tutto quello che è successo, che era lì solo a culo, perché il culo ce lo puoi avere su una partita, ce lo puoi avere su 90 minuti, anche due partite di fila, ma su un intero campionato secondo me è davvero assurdo. Qua c'è differenza. Poi, secondo me, in entrambi i casi, l'insulto non deve esistere. Non deve esistere. Cioè uno non può essere insultato solamente perché magari mi dice che la Roma è lì a culo, ad esempio. Ti posso dire che non sono d'accordo, ti posso dire che magari stai rosicando in quel momento perché vorresti che ci fosse la tua squadra piuttosto che la mia, ma da qui a insultarsi, ad augurare cose brutte personalmente, ce ne vuole davvero. Cioè si passa dal torto alla ragione, anzi si passa dalla ragione al torto in un attimo, anche se in realtà questi gesti non dovrebbero mai essere seguiti da insulti. Il calcio è una cosa che deve essere vista con tranquillità. Non bisogna mai pensare che se una persona è laziale, prendendo ad esempio questa cosa, oppure se dice che Totti non gli interessa, eh ma fai schifo, sei una vergogna, non ripeto quello che è stato detto perché lo ripeto, non voglio entrare proprio nei dettagli. Cioè per quale motivo un laziale deve essere per forza estimatore di Totti? Ma se a loro gli stanno, se a un laziale gli sta sulle palle Totti, ma che male c'è? Cioè nel senso, io posso dirgli, guarda, magari ce lo potevi avere tu, tu ci hai avuto come capitano Mauri, che è stato in prigione, indagato, e questo e quell'altro. Si può rispondere magari in questo modo, ma arrivare all'insulto personale è la cosa più sbagliata che si possa fare, perché nella tua idea di ragione vai nel torto più marcio, nel torto più marcio. Cioè certi insulti, certi auguri, non dovrebbero, cioè solo per gesti veramente gravi, solo se una persona fa qualcosa di grave, ma secondo voi è grave prendere in giro una squadra, fare qualche battuta, o mostrare del gufaggio a riguardo? Secondo me no, io infatti sapevo che in chat mi sono stati scritti dei messaggi, anche per alimentare l'odio e per far partire la scintilla del dissing, cioè molte persone, magari non tutti, però qualcuno, diciamo, si diverte a mettere nelle due youtuber contro, dicendo, ah, hai visto che quell'altro ha detto A, ah, ma hai visto che quell'altro ha detto B, qualcuno lo fa apposta, ecco, qualcuno lo fa apposta, ma io sinceramente non ci vedo nulla di male. Se un, appunto, un laziale mi dice che l'Ajax meritava, cioè io posso dire che magari sta un po' rosicando, ma arrivare all'insulto personale, mettendo di mezzo anche cose proprio private che non dovrebbero essere augurate a nessuno, è davvero, davvero ridicolo. Io ho preso questo episodio di esempio, perché poi è stato seguito da quello che appunto mi è stato scritto in chat, degli inviti a rispondere a chi dice male della Roma. Ragazzi no, io dico semplicemente, se ci sono persone che a cui non piace la Roma per dire o che gli sta sulle palle o tutto quanto, ma ci mancherebbe altro, ma neanche a me stanno simpatiche tutte le squadre. Da qui però a partire all'insulto personale anche grave, sottolineo anche grave, ce ne passa. Bisogna saper reagire e rispondere nella maniera più corretta. Se io ti dico una cosa di presa in giro nei confronti della tua squadra, tu come mi rispondi? Con una presa in giro nei confronti della mia squadra. Non è che se io ti dico ad esempio che la tua squadra fa schifo mi devi dire figlio di puttana, capite il senso del discorso? Ad ogni azione deve essere corrisposta a una reazione pari. Se no si ragiona come in guerra in cui i tedeschi valutavano un generale tedesco come 40 persone normali in Italia, come era successo a Gubbio con la famosa strage dei 40 martiri. Adesso prendo in esempio la storia, ma ovviamente non è che paragono certi episodi ad altri, però è per farvi capire che bisogna sempre reagire allo stesso modo. Mai farsi tappare la vena diciamo dagli insulti o dalle prese in giro per le squadre perché ricordiamoci che è un semplice sport e non bisogna mai superare un certo limite perché se no si passa veramente per delle persone immature che non riescono a vedere oltre il tifo di una persona. Io non posso giudicare male una persona solo perché ti fa un'altra squadra anche perché non lo pensavo neanche prima ma con tutte queste mie partecipazioni alle live ho conosciuto tifosi di tutte le razze della Lazio, del Milan, dell'Inter, della Juve, del Torino, della Fiorentina di qualsiasi squadra e forse è anche per questo che ragioni in questo modo e che riesco a essere più maturo quando succedono queste cose ma indipendentemente da ciò ogni persona va valutata per quello che è sfido un romanista che mi scriva nei commenti io non ho amici laziali non esiste non esiste io ce ne ho tanti ce ne ho non tantissimi però comunque ce li ho e riesco a giudicare le persone per quello che sono e non per la squadra che tifano e soprattutto per quello che effettivamente dicono. Se dicono qualcosa contro la vostra squadra non dovete rispondere per forza ah pezzo di merda vergogna perché sono cose che ci possono stare tu mi prendi in giro per una mia sconfitta quando perderai tu ti prenderò in giro io così si chiude la faccenda e finisce qua non bisogna mai superare un certo limite perché sennò veramente si arriva nel ridicolo più totale. Detto questo ragazzi vi mando un saluto ci vediamo presto per un altro video sempre e comunque forza Roma vi ricordo che questa sera alle 18.30 sarò online in live sul canale di Far Rating per parlare insieme ad Asso di Roma e Joe Giant della partita di giovedì contro l'Ajax un saluto ragazzi mi raccomando usate il cervello e il nostro canale di giovedì